Ciao ragazzi, benvenuti su mio canale, io sono Magnus, ritorniamo sempre qui con Rainbow Six Siege, sto migliorando, me ne sto accorgendo perché in pratica ci capita spesso di vincere alcune partite consecutive, non vedete in questo momento ma mi sto grattando e non voglio portarmi assolutamente sfortuna, cercherò anche oggi di giocare con uno di voi, c'è sempre Shadow, speriamo di beccare anche qualcun altro, naturalmente come al solito vi invito come sempre a mettere un bel pollice su, un bel commento, un bel mi piace, per adesso cercheremo di avanzare e di arrivare per adesso in oro, poi chi può dirlo? Ragazzi, vedremo, sto provando anche ad utilizzare dei nuovi personaggi e vi dico la verità, mi trovo bene, soprattutto con la seconda arma, detto questo andiamoci a trovare la prossima classificata. La pappa sembra quella buona, vabbè, allora, oh, per entrare ci becchiamo Sledge, secondo me è la soluzione migliore, almeno per me, oh, incominciano a parlare qua, eh, che è successo? C'è un italiano perché ho detto, l'ho sentito anche qualche parolaccia, ma come? Ma dai, veramente, non stavo in chat con lui, c'è in pratica, c'è un bug dove si perdono tutti gli operatori, perché sta sparando? Comunque c'è uno che giocherà sempre con la recluta, questa cosa mi fa, mi fa incazzare completamente, vabbè, dobbiamo entrare da qua, vai, c'è il shadow Allora, da là non c'è nessuno, grande, siamo già, cavolo, stanno là, stanno, ok, là non c'è niente, qua non c'è niente, siamo stati individuati Oh, telecamera, ciao Ok, come sta là? Ok, oh, ci sta cavera, ci sta Comunque l'ho segnalato, cosa stanno facendo il giro? Aspetta che questa se fa il giro lo becchiamo all'altra parte Dai ragazzi, stiamo andando alla grande Ok, mi metto qua dentro, dai che siamo in vantaggio Ma dove cavolo stanno? Vabbè, ce ne sta solo uno, abbiamo vinto primo round, è facile Alla grande E questo mi fa piacere perché in pratica qua possiamo mettere una porticina qua e ci becchiamo Ci mettiamo per un attimo là dentro e vediamo se riusciamo a beccare qualcuno Sì, potrebbe essere una buona idea Cravolo, sto bug non mi piace proprio, a me non è mai successo, a voi è mai successo che scompaiono gli operatori? Porca miseria, ok, stanno da qua e stanno entrando Vabbè, ci hanno rottato la telecamera Entrano tutti da là, eh Il nemico sta difendendo il contenitore di Biori Cazzo Porca miseria Da qua non ci stanno Piano Da qua nemmeno Ok, uno è andato Sta di qua, sta di qua e entra da destra Sì, lo sento Lo sento, ma non lo vedo Lo sento, ma non lo Porca miseria, perché non mi sono girato così Maccia la misera Eh, lo so, lo so, eh Vabbè, sono stato spesso io, eh Restano 15 secondi Dai, raga, dai Ultimo attaccante rimasto in vita Oh, vai Dai, che siamo uno in più Da qua deve entrare, da qua Ok, grande, grande, grande Bravo, scelto, grande Uh, entra Ok, ah, c'aveva la black Ok, vabbè Prendiamo a entrare sempre da qua, dai Rompo io, rompo io Ingresso libero Proviamo a vedere se c'è qualcuno Sta dentro Ma ci sta qualcuno qua dentro Questo è saltato da dentro È saltato da fuori Aspetta Vediamo se riusciamo a beccarlo da dentro Aspetta Qua non c'è nessuno Qua nemmeno Qua Oh, ci sta Pulse, cioè c'è Pulse, c'è Pulse Ci ha manco visto a noi tra parentesi Ah, c'è pure la trappolina C'è, c'è tutto qua, eh, raga Grande Ok, abbiamo segnalato Ok, dai che stiamo andando bene Ce ne deve essere qualcuno sopra Secondo me, eh Da qua stanno andando bene Ah, ce ne sta uno sopra Oh, porca miseria ragazzi Ma dove cavolo mi si è piombato Due caricature abbiamo consumato Vi dico solo questo C'è qualcuno che sta camminando solo Ok, vabbè, stavamo là, vabbè Grande C'è impossibile Giochiamo con due reclute Cioè Due reclute No, Shadow Non mi puoi fare anche tu la recluta Eh dai C'abbiamo questo che c'ha il bug Perché Perché vuoi la recluta? Ah, ok Ah, va bene Ok, è un piccolo problemino Ma mica mi metteva la recluta Eh no Eh Dai cazzo C'è impossibile Cioè in pratica abbiamo giocato Interamente Con uno che ha messo la recluta Tutto il tempo E va bene a incazzarti Cioè non è possibile Cioè io non so Fanno l'aggiornamento Per aggiustare le cose E poi ci troviamo a sti bug Fortunatamente ancora non l'ho mai beccato Sto bug Ci grattiamo E speriamo di non beccarlo più Comunque Aspetta Dove stai? No, no Non ti sparo Ma se no ti ammazzo Così tu? Va bene Mettiamo un altro qua Dai raga Non facciamo come il round di prima Che stavamo vincendo 3 a 0 E abbiamo perso 5 a 3 Non ve lo dico E non me lo racconto Basta raga Aspettiamo che se ne vanno E poi ammazziamo Ehi Non dovete rompere i droni Come sto facendo io Da me stai scompassato Ah stava là Va bene Questi a dove arrivano Qua La porta è bloccata Anche se secondo me ho fatto una cagata Aspetta Allora 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 Sono là Sono là Ok Ok Ferito 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 Porca misera C'ha Stai ancora là Stai ancora là Bello Appena entra Se entra Lo fai chiamo Vado un po' alla cieca Dovrai uscire No? Vai Aspetta Aspetta E qua hanno rotto Chi è che ha rotto qua? Aia Ah ma non è morto nessuno Porca Secondo me non ci ha visto Mo ci ha visto però Cazzo Ok Mi rimetto di qua Aspetta 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 Dai Prova a entrare Scansione E dai Caccia il tuo falcino fuori Fatti vedere Capritemi Ricarico C'è sta strisciando Dove sta? Ah ci hanno pure individuato Porca miseria Oh Se non ci aveva Lo scudo Lo fregavamo raga Lo fregavamo Alla grande Porca miseria Ci aveva lo scudo Ci aveva lo scudo Ah dai Sta qua Sta qua Sta dentro Del dolciume Sta Si sta buffando di dolci Cazzo Siamo nemmeno Ok Grande Assist L'abbiamo fatto Che poi era quella di prima Che avevamo beccato Dai raga Che ce la facciamo Un altro è andato Vai Grande Ultimo nemico rimasto Non li vedo Ultimo 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 Chi è rimasto? Da qua deve passare Da qua deve passare No Ok Alla grande Ok Grandissimo Raga Grandissimo 4 a 0 Vabbè dai Abbiamo dominato Bella raga Abbiamo giocato Così così Shadow Va alla grande Sempre alla grande Va bene L'importante è vincere Ragazzi ve lo dico sempre L'importante è vincere Cercate di aiutare la squadra Non cercate di fare tante kill Perché ho notato che in pratica Se si vince la stessa cosa Cioè se fate tante kill E perdete Non serve una mazza Cioè è meglio fare meno kill E vince Ma non è perché ho fatto poche kill Quindi ve lo dico Però ho notato che in pratica Giocando per la squadra Cercando di vincere soltanto È meglio Allora metto Come al sotto Un bel piaccio in su Un bel piaccio in su Un bel piaccio Un bel piaccio Fatemi sapere la cosa Un bel piaccio in su Mi dico sempre commentate Se ti piace Un saluto in questo video E bye bye